Cinque piante che possono aiutare il dimagrimento. Sarebbe bellissimo avere la pianta a bacchetta magica che ti fa dimagrire. Pensiamo alla magia del fucus. Parlo di tintura madre, che va a stimolare la tiroide, però fate attenzione, perché è indicato per chi è in ipotiroidismo, ma non per le tiroide di Hashimoto. E poi, attenzione al titolo, che possono aiutare il dimagrimento. Quindi comunque il dimagrimento basta sempre per un cambiamento del proprio stile di vita. Movimento, l'alimentazione, bisogna fare attenzione, e la gestione dello stress. Poi dopo possiamo pensare ad alcune piante. Anche qui il mondo della fitoterapia è ampio. Pisane, tinture madri, oli essenziali, gemmo derivati. In questo video vi parlerò di cinque tinture madri, che possono in qualche maniera aiutarvi a sbloccare il metabolismo e a perdere peso. La prima tintura madri che mi viene in mente, pensate un po', è il cardomariano. Eh sì, il cardomariano va a lavorare sul fegato. Ha un'azione antiossidante sugli apetipociti, migliora la digestione per il suo effetto coleretico e colago, quindi tutto l'asse digestivo, fegato, intestino, stomaco, e mi aiuta ad allontanare le tossine dal corpo. Perché sono proprio le tossine che, se accumulate, acidificano l'organismo, e quindi l'organismo poi andrà in carenza di magnesio e questo rallenterà il metabolismo. Ma qui ci sarebbe veramente tanto, tantissimo da dire. Ma è un esempio, quindi qualcosa sicuramente che va a deturare il fegato. Qualcosa per l'intestino. L'intestino è fondamentale, considerato il secondo cervello, allora dobbiamo favorire le uviosi intestinali. Se dobbiamo parlare di tinture madri e non di probiotici e prebiotici, la tintura madri che mi viene in mente è l'uncaria. L'uncaria ha una funzione immunomodulante e favorisce le uviosi. Meraviglioso. Tutte queste tinture madri le può usare 25 gocce per 3 volte al giorno. Poi mi viene in mente la tintura madre di ananas. L'ananas è eccezionale. L'ananas ha un'azione antinfiammatoria dei tessuti, del connettivo, e ha un'azione drenante. Quindi mi va a eliminare i liquidi in eccesso. Dobbiamo andare a lavorare sul sistema linfatico, quindi il gemmo derivato di linfa di betulla. Insomma, come vedete, ci sono veramente tante piante che possono aiutare a contrastare il peso. Il mio consiglio è andare da un professionista, a un farmacista, a un arborista, a un medico che vi consiglia le piante giuste per voi. Metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Ci saluta anche il cane White. Ciao! 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 Ciao!